Buongiorno a tutti, ben ritrovati al nostro quarto appuntamento della Rassegna Musicale Online che abbiamo intitolato La musica non si ferma. Questo appuntamento è dedicato alla chitarra ed è qui con me infatti il nostro docente Marco Stesana. Ciao Luana, buongiorno a tutti. Come sapete questi video sono stati montati liberamente dai nostri ragazzi perché ci piaceva dare totale libertà anche nel montaggio. Io vorrei però che facesse una breve presentazione Marco e quindi cedo la parola a lui. Allora, in questo simpaticissimo video, la nostra Aurora Abranescu ci suonerà un semplice arrangiamento del famoso giochi proibiti. Aurora è iniziato da pochissimo lo studio della chitarra ma già con ottimi risultati. Quindi, buona visione e a presto con altri nuovi video dei ragazzi dell'Accademia. Ciao a tutti. Buon ascolto. Ciao. Buon ascolto. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.